Buonasera a tutti cari amici e bentornati al nostro appuntamento con la banda di Sparone. Questa sera i nostri musici vi propongono l'esecuzione della marcia Note in Allegria del maestro Francia, un putpurì di vari brani di musica popolare molto allegro che ci riporta alla memoria tempi spensierati e gioiosi. Questa esecuzione i musici vogliono dedicarla a tutti gli sparonesi, all'amministrazione comunale, alla nostra parrocchia e a tutti gli amici che non mancano mai ai nostri appuntamenti. Nei ricordarvi l'appuntamento di domani sera, stesso radio e stesso canale, siamo comunque certi che presto potremo nuovamente tornare a vivere tutti insieme le nostre note in allegria. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.